ciao a tutti ragazzi bentornati in questo prossimo video sono già in pigiama non notatelo oggi abbiamo le carte di pokemon che le ho già spacchettate perchè se no devo fare dovevo spacchettare quindi le ho già spacchettate oggi vedremo le carte pokemon che ho trovato da un pacchetto da 60 in più quelle che c'avevo quindi questo è tutto questo è tutto il mazzo poi vi farò vedere poi adesso vi dico le varie carte che ho allora primo energia notta secondo gototita 60 di vita energia psico poi cosmog 60 di vita e psico tipo psico poi timer ball basta mega ball scambio energia psico un altro cosmo tinamo 40 di vita energia fulmine sotto qualche minuscola che è il suo solito solo attacco 10 di attacco finion 50 di vita 10 di attacco e questo è acqua tipo acqua pip lup 60 di vita 80 di danno 80 di danno evi 60 di vita 20 di danno poi pj 50 di vita e 20 di danno tandarus poi ditemi nei commenti se ho sbagliato e non se li ho detti male raffica tonante più 20 rombo rombotuono 120 di attacco 120 di vita energia fulmine minor ball sandile au au codice per recuperare energia psico energia psico dry gel intanto le raddrizzo un po' così aspettate questa così 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 ecco qua au hitmor ancora ce ne sono tante rooflet metabod energia fulmine un'altra energia fulmine codice recupero ha comunque il concerto per questo che vi permette di recuperare una carta che avete perso mi ha dato il mio compagno e sempre energia questa energia fulmine hop che me l'ha regalato la mia compagna sfonda oggetto più 20 di attacco e questo è farted il suono oggetto più 20 di attacco vita 80 tipo stella Allenatore Pokemon Club Pipipec Piki Pikipec 50 di vita E 10 di attacco Anche questo tipo stella Alolan Sandriu 60 di vita Tipo acqua E poi Per 10 di ranno Quindi 20 di ranno Oh Adesso iniziamo le carte Le carte che Le carte che ho preso dal pacchetto E da 60 Zamma Zamma zenta Rarissima E nel E nel Papi fammi Fai vedere se la stai inquadrando Fai vedere se si vede Si che si vede C'ha la fiamma multicolore Energia metallo e c'ha la fiamma multicolore Un'altra energia multicolore Un'altra 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 Zamma zenta Che i zamma zenta sono Tipo sempre metallo 120 di vita C'hanno E 150 di attacco Con tutti e due gli attacchi 150 di vita con tutti e due gli attacchi Poi Questo Un'altra Codice Cor Cor Vabbè Corvisquir 80 di vita 70 di attacco Con tutti e due gli attacchi 40 di vita E 60 di vita Rooki Rooki Poi Un'altra Energia Metallo Pau Yard Hope Di nuovo Cicerone Poi Ferrosid Qua c'è anche Il Paesaggio reale Ferrosid Poi Un'altra Energia Ricerca Accademica Scambio Piatto di Metallo Un'altra Energia Un'altro Ferrosid Una Megaball Energia Metallo Sonia Corvik Knight 170 di vita 180 di attacco Con tutti e due gli attacchi Guardia Adversiamoli Poi Un'altra Energia Poi Poke Bimbo Perfetto Questo poi è il pacchetto Di Zamazenta È il pacchetto Da 60 Qua è tutto Rotto Perché Perché ci abbiamo Ne abbiamo Poi Poke Bimbo L'abbiamo già detto Pozione Energia Un'altra Un'altra Duraludon By Sharp Questa Questa C'è tipo Come posso dirlo Non lo so È una papera Questo Poi Un'altra Energia Metallo Un'altra Corvik Knight Ormai Ormai I nomi E gli attacchi Non ve li sto Più dicendo Perché tanto Credo tutti Le conoscete Queste 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 carte Que Oh C'è anche Un'evoluzione Doppia C'è Ferratorn Si Se volvi Da Ferro Sid Pawnyard Non è tanto forte Un'altra Cicerone Rocky Dai Pozione Energia Poke Bimbo Scambio Geysharp Energia Metallo Ricerca Accademica Sonia Dura Le donne Un'altra Energia Un'altra Hop Un'altra Energia Un'altra Panel Un'altra Hop Un'altra Energia Un'altra Ferratorn Un'altra Rocky Dai E Priziamo Così Lo prendo Così Ok Rocky Rocky Ferro Seed Megaball Corby Square Piatto Di Metallo Energia Abbiamo Finito Questo Di quante Secondi È Questo Video Mi sa Di Tanti Immagini Fatemi Vedere Di Dieci Di 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 Di